Emily Bront Cime tempestuose Capitolo I 1801 Sono appena rientrato dopo aver fatto visita al mio padrone di casa, l'unico vicino, un uomo solitario che mi potrebbe infastidire. Questa regione è senza dubbio meravigliosa. Sono convinto che in tutta l'Inghilterra non avrei potuto scegliere come residenza un luogo più isolato dal tumulto della società. Per un misantropo si tratta di un paradiso ideale. E il signor Heathcliff e io sembriamo i più idonei per condividere questa desolazione. È un uomo eccezionale. Di sicuro non può aver immaginato quanta simpatia provai nei suoi confronti, sostenendo lo sguardo di quegli occhi neri, guardinghi e sospettosi, mentre mi avvicinavo a cavallo e nello scorgere, quando mi presentai, le dita di lui affondare ancora di più sotto il panciotto, in un gesto pieno di diffidenza. Il signor Heathcliff? domandai. Un cenno di assenso fu la sola risposta. Sono Lockwood, il suo nuovo inquilino, signore. Mi sono permesso di venire a farle visita al più presto possibile, non appena arrivato, e voglio esprimerle la speranza di non averle arrecato disturbo con le mie insistenti richieste per riuscire ad ottenere in affitto Trascross Grange. Ho saputo ieri che lei pensava di... Trascross Grange mi appartiene, signore. Lo interruppe lui trasalendo. E se posso impedirlo, non consento a nessuno di disturbarmi. Si accomodi. Queste ultime parole furono pronunciate a denti stretti, quasi volessero invece significare «Vada al diavolo!» E perfino il cancello al quale stava appoggiato sembrò reticente ad aprirsi per assecondare le sue parole. Ma proprio quelle circostanze, suppongo, mi indussero ad accettare l'invito. L'uomo, che sembrava dominato da un riservo ancora più esasperato del mio, suscitò in me un certo interesse. Vedendo il petto del cavallo fare pressione sul cancellato, si decise a togliere il catenaccio, e poi mi fece strada su per il viale d'accesso, con un'espressione un po' immusonita, gridando mentre entravamo nel cortile. «Joseph, vieni ad occuparti del cavallo del signor Lockwood, e porta del vino!» «La servitù deve ridursi a quest'unico individuo», fu la considerazione che mi suggerì un tale duplice comando. «Non c'è da meravigliarsi se l'erba cresce tra i lastroni di pietra del cortile, e se è soltanto il bestiame a incaricarsi della potatura delle siepi. Joseph mi parve un uomo piuttosto avanti negli anni, addirittura vecchio, forse vecchissimo, per quanto arzillo e robusto. «Che Dio ci assista!» fu il suo soliloquio, pronunciato sotto voce e con stizzosa contrarietà, e nello stesso tempo mi rivolse uno sguardo così pieno di astio, che io, con spirito caritatevole, preferì credere in una sua necessità dell'aiuto divino, per riuscire a digerire il pranzo, evitando nel modo più assoluto di attribuire la causa della pia esclamazione al mio inatteso arrivo. Cime tempestuose è il nome della dimora del signor Heathcliff. L'aggettivo tempestuose fornisce una chiara idea delle turbulenze atmosferiche alle quali si trova esposta quella località quando infuria il maltempo. E in effetti lassù deve regnare di continuo una ventilazione corroborante. Non è difficile intuire la violenza del vento da nord quando soffia al di là del crinale, osservando l'eccessiva inclinazione di alcuni stenti abeti su un lato della casa, e il susseguirsi di rovi, i cui tralci si protendono tutti nella stessa direzione, quasi implorando mercè al sole. Per buona sorte, l'architetto è stato tanto previdente da progettare una solida dimora. Le finestre strette sono incassate in profondità nei muri, gli angoli dei quali sono rinforzati da grosse pietre sporgenti. Prima di varcare la soglia, indugiai, restano in ammirazione delle numerosissime e grottesche sculture che adornano a profusione la facciata, soprattutto intorno all'ingresso principale, dove in alto, tra un caos di grifoni sgretolati e di fanciulletti impudichi, intravidi una data, 1500 e un nome, Areton Hernshue. Mi avrebbe fatto piacere indulgere a qualche commento e farmi narrare dall'imbronciato proprietario una breve storia della casa, ma con il suo atteggiamento lì sulla soglia, aveva l'aria di sollecitarmi a sbrigare a entrare, o altrimenti ad andarmene, e io non ci tenevo affatto a vedere accrescersi la sua insofferenza prima di aver potuto dare un'occhiata all'interno dell'edificio. Fu sufficiente un passo per giungere nel salotto, poiché non esisteva un'anticamera e neppure un corridoio. Da queste parti il salotto è chiamato la casa. Di solito comprende anche la cucina, ma lì a cime tempestuose la cucina, a quanto sembrava, era stata costretta a vedersi relegata in qualche altra parte della dimora, dato che nei remoti recessi di quest'ultima udì un cicaleccio e un acciottolio di pentole, né potei vedere alcun rifulgere di tegami di rame o di colini di stagno alle pareti o tracce di carni arrostite o bollite o cotte al forno sull'enorme focolare. Il muro di fondo della stanza rifletteva invece in maniera stupenda luce e calore grazie a file innumerevoli di vassoi di peltro. Inframmezzate da torreggianti e altrettanto innumerevoli pile di caraffe e di boccali d'argento, entrò una sterminata credenza di quercia alta fino al tetto. Quest'ultimo non era mai stato mascherato da un soffitto e tutta la sua struttura restava esposta agli sguardi dei curiosi, tranne nel punto in cui veniva celato da una mensola di legno dove si allineavano focacce di avena e grappoli di prosciutti di pecora, di manzo e di maiale. Sopra il caminetto facevano bella mostra di sé diversi fucili antiquati e minacciosi, due pistoloni e a scopo ornamentale tre barattoli per il tè con dipinte e decorazioni vistose distribuiti sulla mensola. Il pavimento era di levigata pietra bianca, le sedie, dalla forma piuttosto rozza e verniciate di verde, avevano un alto schienale, nella penombra si annidava un altro paio di sedie nere. Entro una nicchia ad arco che si apriva sotto la credenza, una grossa cagna pointer dal pelame rossiccio dormiva circondata da una nideata di cuccioli uggiolanti e altri cani se ne stavano coricati in altri angoli. La stanza e i mobili non sarebbero stati affatto fuori dal comune, qualora fossero appartenuti a un agricoltore del nord, uno di quegli individui alla buona, dalla faccia arcigna e dalle membra galiarde, messe in evidenza dai calzoni al ginocchio e dalle ghette. È consueto vedere uomini del genere seduti in poltrona, con un boccale di birra spumeggiante sul tavolino rotondo posto davanti ad essi, in un raggio di otto o dieci chilometri su queste alture, qualora ci si richi a casa loro, al momento giusto, subito dopo il pranzo. Ma il signor Heathcliff contrasta in modo singolare con la sua dimora e con il suo sistema di vita. Alla carnagione scura di uno zingaro è l'aspetto, gli abiti e le maniere di un gentiluomo, o, per meglio dire, di un gentiluomo quanto lo può essere un signorotto di campagna. Un po' trascurato, forse, ma senza che ciò gli arricchi danno, grazie a un portamento eretto e a una presenza a cui l'aria burbera non nuoce affatto, anche se taluni potrebbero sospettarlo di una certa rustica altezzosità. Ma una mia inclinazione ad essere comprensivo mi induce a credere che non si tratti affatto di questo. So, per istinto, che il suo riservo nasce dall'avversione a ostentare i propri sentimenti, da un ritrarsi di fronte alle manifestazioni di reciproca simpatia. È capace di amare e di odiare, ma sempre senza renderlo palese, e senza dubbio considera una specie di impertinenza l'essere fatto oggetto di amore o di odio. Ma no, sto correndo troppo. Mi lascio andare con eccessiva facilità ad attribuirgli gli aspetti del mio carattere. Il signor Heathcliff può avere ragioni del tutto diverse dalle mie per nascondere la propria vera indole quando gli accade di trovarsi con qualcuno che potrebbe diventare un suo conoscente. Mi auguro che il mio carattere sia unico o quasi. Mia madre, quella cara donna, soleva dirmi come non sarei mai riuscito ad avere una famiglia, e non più tardi dell'estate scorsa ho dato prova di non esserne assolutamente degno. Mentre mi godevo un mese di tempo splendido al mare, il caso volle che mi trovassi in compagnia della creatura più affascinante, una vera dea ai miei occhi, fino a quando non si accorse di me. Non le feci mai una aperta dichiarazione d'amore, eppure, se gli sguardi esprimono qualcosa, anche un idiota si sarebbe reso conto di come fossi innamorato alla follia. Lei comunque lo comprese, e mi guardò con altrettanta passione, le occhiate più suavi che si possano immaginare. Ma io cosa feci? Provò una certa vergogna nel confessarlo. Mi chiusi gelidamente in me stesso, come una chiocciola, ritraendomi e comportandomi ad ogni occhiata con una più grande freddezza, finché in ultimo la povera, innocente creatura non si sentì indotta a dubitare dei propri sensi, e in preda a una totale confusione a causa di quel supposto equivoco persuase sua madre a ripartire. Una tale strana indole mi ha procurato la reputazione di uomo volutamente privo di cuore, e quanto si tratti di una immeritata reputazione io soltanto lo posso dire. Sedetti di fianco al caminetto, sul lato opposto a quello verso il quale si era avviato il mio padrone di casa, e colmai un intervallo di silenzio con un tentativo di accarezzare la cagna, che aveva abbandonato la cucciolata e mi stava fiutando i polpacci, furtiva come una lupa, con le labbra sollevate sulle zanne bianche pronte a scattare. Le mie carezze ottennero soltanto un lungo ringhio rauco. «Farebbe meglio lasciarla stare», disse in tono altrettanto ringhiante il signor Heathcliff, e prevenne con una pedata più feroci manifestazioni di ostilità. «Non è abituata ai complimenti, non è una cagnetta da salotto?» Poi si diresse ai grandi passi verso una porta, e si rimise a urlare. «Joseph!» Joseph bofonchiò qualcosa di incomprensibile dalle profondità delle cantine, ma non diede a vedere di avere alcuna intenzione di risalire. Il suo padrone si precipitò pertanto giù da lui, abbandonandomi a vis-à-vis con la cagna minacciosa e con un paio di cani da pastore, torvi e pericolosi, che insieme ad essa tenevano d'occhio senza distrarsi ogni mio movimento. Non avevo alcun desiderio di fare la conoscenza delle loro zanne, perciò non mi mossi, ma, convinto che sarebbe stato difficile far capire loro insulti silenziosi, mi permissi, ahimè, di fare smorfi a tutti quanti, e il variare della mia espressione dovette irritare a tal punto la femmina che a un tratto infuriata la bestia mi balzò sulle ginocchia. La scaraventai giù e mi affrettai ad interporre tra noi il tavolino. Quel movimento eccitò l'intero branco. Almeno sei demoni a quattro zampe, di varie taglie ed età, balzarono fuori dalle loro cucce nascoste, radunandosi al centro della stanza. Cercavano di azzannarmi i calcagni e le falde della giacca, e mentre tenevo a bada gli aggressori più grossi con quanta maggiore efficacia possibile servendomi dell'attizzatoio, mi trovai costretto a invocare a gran voce l'intervento di qualcuno affinché venisse riportata la calma. Il signor Heathcliff e il suo servo risalirono la scala della cantina con una flemma esasperante. Non si affrettarono, ebbi l'impressione, nemmeno di poco più di quanto fossero soliti fare, sebbene davanti al caminetto stesse imperversando un vero tumulto di azzannate e di guaiti. Per fortuna, una delle persone che si trovavano in cucina fece mostra di una maggiore sollecitudine. Una donna robusta, dalle braccia nude e le gote arrossate dal calore del fuoco, si precipitò tra noi brandendo una padella e si servì con tanta efficacia di quell'arma e della propria lingua da riuscire a placare la tempesta quasi per incanto, per cui, quando sopraggiunse il padrone di casa, rimaneva soltanto lei, ansimante, e con il petto che si sollevava come il mare quando infuria il vento. «Che cosa diavolo succede?» domandò il signor Heathcliff, sbirciandomi in un modo che mi riuscì difficile tollerare dopo essere stato trattato con tanta inospitalità. «Che diavolo è successo, infatti?» borbottai. «Un branco di porci inferociti non potrebbe essere pieno di veleno più di questi suoi cani, signore. Tanto varrebbe lasciare gli ospiti in mezzo alle tigri». «Non se la prendono con le persone che non toccano nulla?» osservò lui, riportando il tavolino al posto di prima e mettendomi davanti la bottiglia. «E' una buona cosa che i cani facciano la guardia. Gradisci un bicchiere di vino?» «No, grazie». «Non è stato morsicato, vero?» «Se uno dei cani mi avesse morsicato non se la sarebbe cavata impunemente». Un sorriso raddolcì il volto di Heathcliff. «Su via, andiamo!» disse. «Lei è turbato, signor Lockwood. Avanti, accetti un po' di vino. Gli ospiti sono rari in maniera tanto straordinaria in questa casa che io e i miei cani, lo riconosco, non sappiamo accoglierli a dovere. Alla sua salute, signore!» Mi inchinai e ricambiai il brindisi, mentre cominciavo a rendermi conto che sarebbe stato sciocco prendersela per l'aggressività di quei botoli. E, a parte questo, non tolleravo di consentire a quell'uomo di divertirsi ulteriormente a spese mie. In effetti, sembrava proprio che adesso fosse propenso a burlarsi di me. Poi, però, con ogni probabilità, indotto a ciò da prudenti riflessioni sulla pazzia che avrebbe commesso offendendo un buon inquilino, si fece un po' meno laconico e, servendosi di un linguaggio in qualche modo più forbito, sollevò un tema che riteneva potesse interessarmi, disertando sui vantaggi e sugli svantaggi della località nella quale mi ero isolato. Mentre conversavamo, constatai che trattava con intelligenza ogni argomento e prima di rientrare in casa mi sentii tanto incoraggiato da proporre di fargli di nuovo visita all'indomani. Risultò chiaro come lui non desiderasse affatto il ripetersi della mia intrusione, ma sarei ritornato ugualmente da lui. Mi sentivo socievole in misura eccezionale a paragone di quell'uomo. Capitolo secondo Il pomeriggio di ieri era nebbioso e freddo. Avevo quasi intenzione di trascorrerlo davanti al fuoco nel mio studio, invece di trovarmi ad arrancare nel fango della brughiera diretto a cime tempestose. Comunque, una volta tornato di sopra dopo aver pranzato, nota bene, io pranzo tra mezzogiorno e luna. La governante, una dama dall'aspetto matronale che fa parte della casa presa in affitto, non ha potuto o voluto tenere in considerazione la mia richiesta di avere il pranzo servito alle cinque. E dopo aver salito le scale con questo pigro proponimento, quando entrai nella stanza, vidi una cameriera inginocchiata in mezzo a spazzole e secchi pieni di carbone, intenta a sollevare un polverone infernale mentre stava spegnendo le fiamme con mucchi di cenere. Questo spettacolo mi indussi a tornare senza indugi sui miei passi. Presi il cappello e dopo aver camminato per sei chilometri e mezzo, giunsi davanti al cancello di Heathcliff, giusto in tempo, per sottrarmi ai primi fiocchi piumosi di una nevicata. Sulla squallida sommità di quella collina una brinata aveva indurito la terra e l'aria gelida mi faceva tremare in tutto il corpo. Poiché non ero riuscito a togliere il catenaccio, scavalcai il cancello. Poi mi precipitai di corsa su per il lastricato del viale d'accesso, tra gli stenti cespugli d'uva spina, e bussai alla porta per farmi aprire fino a sentirmi formicolare le nocche mentre i cani avevano preso a ululare, ma senza risultato. Le persone che abitano in questa casa sono degli sciagurati, esclamai dentro di me. Meritano un isolamento perpetuo dalla nostra specie per la loro zotica inospitalità. Se non altro io non tengo la porta sprangata durante il giorno, ma me ne infischio, entrerò ad ogni costo. Prisa tale decisione, afferrai il saliscendi e lo scossi con impeto. La faccia bisbetica di Joseph apparve, incorniciata da una piccola finestra rotonda del granaio. «Cosa vuole?» gridò l'uomo. «Il padrone è nell'ovile, se gli vuole parlare faccia il giro del granaio». «In casa non c'è nessuno che possa venirmi ad aprire?» gli risposi urlando. «No, c'è soltanto la padrona e non le aprirebbe neanche se continuasse fino a notte a fare questo chiasso tremendo». «Perché? Non glielo può dire lei chi sono, eh Joseph?» «Io no di sicuro, non ne voglio sapere di impicciarmi», borbottò e sparì dalla finestra. La neve cominciò a scendere fitta e sferzante. Afferrai la maniglia accingendomi a fare un nuovo tentativo, ma proprio in quel momento un giovane senza la giacca con una forca da fieno appoggiata alla spalla comparve nel cortile dietro di me. Mi gridò di seguirlo e dopo aver attraversato una lavanderia e aver percorso un tratto pavimentato dove trovavano posto la carbonaia, la pompa dell'acqua e la piccionaia, arrivamo in ultimo nel grande salotto riscaldato dove ero stato fatto entrare il giorno prima. I riflessi di un fuoco enorme alimentato a un tempo con carbone, legna e torba lo illuminavano nella maniera più confortevole e accanto al tavolo già apparecchiato per una lauta cena fui lieto di scorgere la signora, una persona della quale non avrei fino a quel momento neppure sospettato l'esistenza. Mi inchinai e rimasi in attesa, convinto che mi avrebbe invitato ad accomodarmi. La donna mi fissò, appoggiata all'indietro contro lo schienale della poltrona e si mantenne immobile e muta. Un tempaccio terribile, osservai. Temo, signora Heathcliff, che la porta di casa abbia subito le conseguenze dell'inettitudine dei suoi domestici. Ho fatto una gran fatica per farmi sentire. Continuò a non aprire bocca. La fissavo e a sua volta lei fissava me o perlomeno teneva lo sguardo rivolto nella mia direzione con una fredda indifferenza, quanto mai imbarazzante e sgradevole. Si accomodi, fece in tono brusco il giovane. Il padrone sarà qui tra poco. Sedetti, mi schiarii la voce, poi chiamai giuno la perfida cagna e la bestia, in occasione di questo secondo incontro, si degnò di muovere la punta della coda, mostrando di avermi riconosciuto. Bellissimo animale, presi a dire. Hai intenzione di dare via i cuccioli, signora? Non sono miei, disse l'amabile padrona di casa, ancora più scostante di quanto sarebbe potuto esserlo lo stesso Heathcliff. Ah, i suoi prediletti sono questi, continuai, voltandomi verso un cuscino che restava in ombra e sul quale giacevano bestiole simili a gatti. Sarebbe una ben strana scelta in fatto di predilizioni, osservò lei in tono beffardo. Per mia sfortuna si trattava di conigli morti. Di nuovo mi schiarii la voce, mi avvicinai al caminetto e ripetei il commento sul tempo inclemente di quella sera. Doveva evitare di uscire, fece lei alzandosi e protendendosi verso la mensola del camino per prendere i due dei barattoli per il tè dipinti. Nel punto in cui si era trovata prima, la luce non la raggiungeva. Adesso potevo vederne con chiarezza sia la figura sia i lineamenti. Era esile e si sarebbe detto che avesse superato appena da qualche anno l'adolescenza. Possedeva forme ammirevoli e il visetto più delizioso che avessi mai avuto il piacere di contemplare. Aveva fattezze minute molto belle, boccoli color lino o meglio, dorati, le ricadevano con morbidezza sul collo delicato e gli occhi. Se avessero avuto un'espressione amabile sarebbero stati irresistibili. Fortunatamente per il mio cuore tenero gli unici sentimenti che vi si potevano leggere erano una via di mezzo tra lo scherno e una specie di disperazione strana e innaturale in una creatura come quella. Dato che arrivava fatica ai barattoli mi feci avanti per aiutarla. Si ribellò con un movimento impetuoso come potrebbe fare un avaro se qualcuno mostrasse l'intenzione di contare insieme a lui le monete d'oro. Non mi serve il suo aiuto, scattò. Posso prenderli benissimo da sola. Voglio scusarmi mi affrettai a dire. L'hanno invitata a prendere il tè? Domandò lei mentre si annodava un grembiule sopra il lindo vestito nero e rimase lì ferma con un cucchiaino di tè sospeso a mezz'aria sopra la cucuma. Sarà un piacere accettarne una tazza? Risposi. È stato invitato? Ripetè la giovane donna. No dissi con un mezzo sorriso ma potrebbe invitarmi lei? lasciò cadere il tè di nuovo dove l'aveva preso insieme al cucchiaino e si rimise a sedere facendo il broncio con la fronte corrugata il roseo labbro inferiore sporgente come una bambina sul punto di scoppiare in lacrime. In quel frattempo il giovane si era infilato una giacca davvero mal ridotta e in piedi davanti alla fiamma del camino mi guardava di sbieco dall'alto in basso come se tra noi fosse esistita qualche faida mortale una vendetta da compiere. Sorse in me il dubbio che si trattasse di un servo sia il modo di vestire sia il modo di esprimersi erano da bifolco del tutto privi della superiorità sociale che si poteva riscontrare nel signor Heathcliff o in sua moglie. Aveva i capelli castani e ricciuti arruffati e incolti le fedine gli coprivano il volto simili al pelo di un orso e le mani erano abbronzate dal sole come quelle di un volgare bracciante. Nonostante ciò il suo comportamento era pieno di non curanza e quasi altezzoso non dava affatto prova dello zelo di un domestico nel servire una padrona di casa. In mancanza di prove decisive circa la sua condizione sociale giudicai preferibile a stenermi dall'attribuire importanza a quello strano atteggiamento e cinque minuti dopo l'arrivo di Heathcliff mi liberò in qualche misura dalla situazione di disagio in cui mi trovavo. Come vede signore sono venuto mantenendo la promessa esclamai con simulata allegria e temo che il maltempo mi costringerà a trattenermi qui per una buona mezz'ora se lei sarà tanto cortese da offrirmi il riparo del suo tetto. Mezz'ora fece lui spazzolandosi via dall'abito bianchi fiocchi di neve. Mi domando perché abbia scelto il peggior momento di una nevicata per andarsene a spasso. Lo sa che corre il rischio di smarrirsi nelle paludi? In serate di questo genere anche persone che conoscono benissimo la brughiera perdono la strada e le posso assicurare che per il momento non esiste alcuna possibilità di un cambiamento del tempo. Qualcuno dei suoi braccianti potrebbe farmi da guida lo ospiterei alla grenge fino a domani mattina non le è possibile privarsi di uno di loro? No non posso Oh ma guarda beh allora dovrò far conto sulla mia sagacia Pfff fece Heathcliff Avanti vuoi deciderti a preparare questo tè? domandò il giovanotto dalla giacca malandata spostando a un tratto lo sguardo feroce da me all'esile signora Anche lui lo deve prendere? domandò la giovane donna rivolta a Heathcliff Tu comincia a prepararlo eh? fu la risposta pronunciata in un tono così rude da farmi trasalire un tono di voce che rivelava un'indole davvero perfida non mi senti più incline a considerare Heathcliff un uomo eccezionale una volta conclusi i preparativi mi invitò dicendo e ora signore sposti in avanti la sedia così noi tutti compreso il rustico giovane ci accostammo al tavolo disponendoci intorno ad esso e mentre consumavamo il pasto dominò un austero silenzio ritenni che se ricadeva su di me la responsabilità del malumore fosse il mio dovere fare uno sforzo per dissiparlo non potevano essere così tetri e taciturni ogni giorno ed era impossibile per quanto pessimo potesse essere il loro carattere che il generale cipiglio ostentato dai presenti fosse il loro atteggiamento quotidiano è strano presi a dire nell'intervallo tra la prima e la seconda tazza di tè è strano fino a qual punto le abitudini possano condizionare i gusti e le idee molte persone non sarebbero nemmeno in grado di immaginare che in una vita di totale esilio dal mondo come quella che lei conduce signor Heathcliff possa esistere la felicità eppure oserei dire che circondato dalla famiglia e con una così amabile consorte quale nome tutelare della sua casa e del suo cuore una così amabile consorte mi interruppe lui con il volto atteggiato a un ghigno quasi diabolico dove sarebbe l'amabile consorte la signora Heathcliff sua moglie intendo oh già secondo lei il suo spirito si sarebbe trasformato in un angelo custode e sarebbe qui a tutelare le sorti di cime tempestose anche se fisicamente mia moglie non esiste più e così essendomi reso conto dell'errore commesso tentai di rimediare mi sarei dovuto accorgere di come esistesse una eccessiva differenza d'età tra i due perché potessero essere marito e moglie l'uno doveva aver raggiunto la quarantina un periodo di vigore mentale che impedisce agli uomini di illudersi circa un matrimonio d'amore con una fanciulla sogni di questo genere possono soltanto essere la consolazione degli anni del nostro declino l'altra dimostrava anche meno di 17 anni poi come in una folgorazione credetti di capire il bifolco al mio fianco intento assorbire il tè da una scodella e a spezzare il pane con le mani ancora sudice deve essere il marito si tratta naturale del figlio di Heathcliff ecco le conseguenze del condurre un'esistenza da sepolti vivi Costei ha sprecato se stessa con questo zotico soltanto perché ignorava che ci fossero al mondo uomini migliori è un vero peccato mi dovrò guardare bene dal fare in modo che si penta della propria scelta quest'ultima riflessione potrà apparire vanitosa ma non è così il giovane seduto accanto a me mi sembrava quasi repellente mentre sapevo per esperienza di piacere non poco alle donne la signora Heathcliff è mia nuora disse il padrone di casa a conferma di quanto avevo supposto mentre parlava rivolse uno strano sguardo alla ragazza uno sguardo pieno di odio a meno che i suoi muscoli facciali fossero affetti da una perversione tale da impedire loro diversamente da quelli delle altre persone di esprimere i moti dell'animo ah ma certo ora capisco lei è il fortunato possessore della fata benefica osservai rivolto al mio vicino di posto peggiorai ancora di più le cose il giovanotto arrossì e serrò il pugno come se avesse avuto intenzione di aggredirmi ma di lì ad un momento parve riprendere il dominio di sé e si limitò a dare sfogo all'ira con una brutale imprecazione borbottata tra i denti al mio indirizzo imprecazione che in ogni caso finsi di non aver udito non ha fortuna con le sue supposizioni signore osservò il mio anfitrione nessuno di noi due ha il privilegio di essere il padrone della buona fata suo marito è morto come le ho detto è mia nuora e perciò deve aver sposato mio figlio e questo giovane è non mio figlio di sicuro Heathcliff sorrise ancora come se si fosse trattato di uno scherzo un po' troppo azzardato l'attribuirgli la paternità di quell'orso mi chiamo Areton Hernshu fece l'altro in tono ringhiante e le consiglio di rispettare il mio nome non ho mostrato alcuna mancanza di rispetto replicai ma dentro di me risi del sussiego con il quale si era presentato lui tenne lo sguardo fisso su di me più a lungo di quanto fossi disposto a sopportare temevo infatti sia di non resistere alla tentazione di sferrargli un pugno sia di non riuscire a trattenere una risata cominciavo a sentirmi in maniera inequivocabile come un pesce fuor d'acqua in quel confortevole ambiente familiare l'atmosfera lugubre che regnava nella casa mi sopraffece annullando del tutto il tepore degli agi materiali decisi di attenermi ad una maggiore cautela prima di comportarmi per la terza volta in maniera avventata sotto il tetto di Heathcliff dato che avevamo terminato di prendere il tè e nessuno apriva bocca nel tentativo di portare avanti una conversazione socievole mi avvicinai ad una finestra per vedere come si metteva il tempo quella che apparve ai miei occhi fu una scena malingonica stava scendendo una notte tenebrosa e prematura il cielo e le alture si confondevano in un violento turbinare di raffiche gelide di neve che toglieva il respiro non credo che mi sia possibile tornare a casa adesso senza una guida non riuscì a impedirmi di esclamare le strade saranno già sepolte sotto la neve ma anche se fossero sgombre non mi sarebbe possibile vedere più in là di un palmo dal naso Areton vai a ricoverare quella decina di pecore sotto la tettoia del granaio le troveremo seppellite se le lasciamo tutta la notte nell'ovile e serviti di un asse per rinchiuderle cosa mi resta da fare? insistetti con crescente irritazione la mia domanda non ottenne risposta di alcun genere guardandomi attorno vidi soltanto Joseph che portava un secchio di polenta d'avena per i cani e la signora Heathcliff china sul fuoco che si divertiva ad accendere i fiammiferi caduti dalla mensola del caminetto quando aveva rimesso a posto il barattolo del tè Joseph dopo aver posato il secchio si guardò intorno nella stanza con un'aria di riprovazione poi con una voce dai toni striduli gracidò mi domando come può avere la faccia tosta di stasene lì con le mani in mano e anche peggio con questo tempaccio e con tutti gli altri così indaffarati ma a cosa serve insistere con chi è un buono a nulla e non ha nessuna intenzione di corregersi oh vada all'inferno come c'è andata sua madre prima di lei per un momento pensai che quel saggio di eloquenza fosse diretto a me e in prida all'ira mi feci avanti verso il vecchio briccone pronto a scaraventarlo a calci fuori dall'uscio mi fermai quando udì la risposta della signora Heathcliff vecchio ipocrita scandaloso disse lei non hai paura che il demonio ti porti via di peso ogni volta che pronunci il suo nome ti avverto piantala di provocarmi altrimenti chiederò come favore particolare che tu finisca tra le fiamme eterne smettila e vieni un po' qui a vedere Joseph continuò prendendo da uno scaffale un libro dalla copertina scura voglio mostrarti quanti progressi ho fatto nella magia nera tra non molto grazie ad essa riuscirò a fare piazza pulita in questa casa la vacca rossa non è morta per combinazione mettitelo in mente e i tuoi reumatismi puoi starne certo non sono dovuti al caso oh quanta malvagità quanta malvagità ansimò il vecchio che il buon dio ci liberi dal male no tu sei lo scelerato vattene o avrai quello che ti spetta per davvero creerò una figurina di cera e di argilla a immagine di tutti voi e il primo che andrà oltre i limiti stabiliti da me oh non sarò a dire adesso quello che gli capiterà ma vedrai vattene e sta certo che non ti perdo di vista gli occhi stupendi della piccola strega splendettero di una luce dissimulata perfidia e Joseph tremante di autentico orrore si affrettò a uscire pregando e borbottando quanta cattiveria il comportamento della giovane donna doveva essere stato suggerito secondo la mia opinione da una sorta di macabro umorismo e poiché eravamo ormai rimasti soli cercai di interessarla alla mia situazione critica signora Heathcliff dissi con grande serietà voglia scusarmi se la disturbo o so farlo perché con quel viso ne sono sicuro non può non avere buon cuore la prego mi indichi qualche punto di riferimento grazie al quale mi sia possibile trovare la strada per tornarmene a casa non saprei come arrivarci più di quanto lei sappia il modo per raggiungere Londra segua la stessa strada che ha percorso per arrivare fin qui fece lei accomodandosi su una poltrona con lo spesso libro dalla copertina scura aperto davanti a sé e sotto la luce di una candela è un consiglio conciso ma è anche il più giusto che le possa dare ma in questo caso se verrà a sapere che mi hanno trovato morto in una palude o in una buca piena di neve non sentirà la voce della coscienza bisbigliarle che in parte è anche colpa sua e perché non posso accompagnarla non mi consentirebbero di arrivare neppure fino al muro del giardino lei non oserei chiederle di spingersi oltre la soglia della porta di casa a mio beneficio in una notte come questa esclamai vorrei che mi spiegasse quale strada dovrei seguire non pretendo certo che me la mostri oppure potrebbe convincere il signor Heathcliff a fornirmi una guida e chi non ci siamo che lui Earnshaw Zilla Joseph e io chi dovrebbe accompagnarla non ci sono braccianti nella fattoria no soltanto noi di conseguenza immagino di essere costretto a restare qui quanto a questo dovrà accordarsi con il padrone di casa io non c'entro affatto spero che la situazione in cui è andato a cacciarsi le serva di lezione per il futuro sconsigliandola ad effettuare altre escursioni avventate su queste alture gridò la voce severa del signor Heathcliff dalla porta della cucina quanto a trattenersi qui non dispongo di camere per gli ospiti dovrà dormire con Areton o con Joseph se si fermerà potrei dormire su una poltrona in questa stanza gli feci notare no no uno sconosciuto è sempre uno sconosciuto non importa se ricco o povero non mi va di permettere a un estraneo di fare il proprio comodo in questa casa mentre io non lo posso controllare dichiarò quel villano rifatto quest'ultimo insulto esaurì la mia pazienza con un'esclamazione disgustata mi lanciai oltre di lui nel cortile ed era tanta la mia fretta che andai a sbattere contro Earnshaw ci troviamo immersi in un'oscurità così fitta che non mi fu possibile trovare la strada per uscire di lì e mentre vagavo qua e là mi fu consentito di udire un'altra testimonianza del civile comportamento di quelle persone tra loro sulle prime il giovane parve addirittura disposto ad aiutarmi lo accompagnerò fino al parco disse all'inferno lo accompagnerai esclamò il suo padrone o quella qualsiasi altra cosa fosse per lui chi accudirebbe i cavalli se te ne vai la vita di un uomo è più importante del trascurare per una sera i cavalli qualcuno dovrà pur accompagnarlo mormorò la signora Heathcliff con maggiore cortesia di quanto mi sarei aspettato non per ordine tuo ribatté Areton se questo tizio ti sta a cuore farei bene a startene zitta allora spero che il suo fantasma ti perseguiti e spero che Heathcliff non trovi mai più un altro inquilino fin quando la grange non sarà un mucchio di macerie replicò lei aspra sentila sentila come se la prende con quei due borbotto Joseph verso il quale mi ero avvicinato sedeva a portata d'orecchio intento a mungere le vacche alla luce di una lanterna che afferrai senza troppe cerimonie per mettermi poi a correre verso l'uscita più vicina dichiarando a voce altissima che era nelle mie intenzioni rimandarla l'indomani padrone padrone ha rubato la lanterna strepitò il vecchio inseguendomi ehi zanna forza cagnacci ehi lupo prendetelo prendetelo stavo aprendo il portoncino quando due mostri pelosi mi balzarono alla gola mi fecero stramazzare mentre la lanterna si spegneva e una sghignazzata corale di Heathcliff e di Areton portava al culmine la mia furia e la mia umiliazione per fortuna entrambi i cani parvero più inclini a stiracchiare le zampe a sbadigliare e a scodinzolare che non a divorarmi vivo non tolleravano comunque che mi rialzassi e fui costretto a giacere lì a terra fin tanto che i loro perfidi padroni non si compiacquero di liberarmi dopodiché a testa nuda e tremante di rabbia ingiunsi ai due screanzati di farmi uscire la loro stessa vita si sarebbe trovata in pericolo se avessero osato trattenermi lì un momento ancora e urlai diverse e incoerenti minacce di rappresaglie che a causa della loro sconsiderata vehemenza potevano richiamare alla mente il re Liar ero sconvolto da un'agitazione così violenta che prese a sanguinarmi con abbondanza il naso ciò nonostante Heathcliff continuò a ridere e io a inveire non so davvero come sarebbe finita se non fosse sopraggiunta una persona assai più razionale di me e più benevola del mio anfitrione si trattava di Zilla la gagliarda massaia che in ultimo si decise a uscire per accertare la causa di tanto baccano ritenne che uno degli uomini mi avesse percosso e non avendo il coraggio di prendersela con il padrone puntò la propria artiglieria vocale contro il più giovane dei faraputti ma bravo signor Hernshu gridò mi domando cos'altro combinerà la prossima volta dobbiamo arrivare al punto di assassinare la gente sulla soglia stessa di casa nostra mi rendo proprio conto adesso che questa dimora non farà mai per me guardi questo povero giovane sta quasi soffocando su su non può continuare così torni dentro ci penserò io a rimetterla in sesto ecco bene stia fermo ora mentre pronunciava queste parole a un tratto mi versò giù per il collo mezzo litro di acqua gelida e mi trascinò in cucina il signor Heathcliff ci seguì e la sua allegria del tutto temporanea ebbe ben presto fine sostituita dalla consueta tetraggine stavo malissimo ero in preda alle vertigini e molto debole mi trovai quindi costretto ad accettare di essere ospitato da lui Heathcliff disse a Zilla di farmi bere un bicchierino di brandy poi si recò nel salotto mentre la donna mi commiserava per lo stato in cui ero ridotto e dopo aver eseguito l'ordine del padrone e dopo che mi ero un po' ripreso mi condusse di sopra a coricarmi capitolo terzo capitolo terzo delle cose strane che lei preferiva non cominciare nemmeno ad essere curiosa troppo stupito io stesso per essere curioso chiusi a chiave la porta e mi guardai attorno cercando il letto tutto l'arredamento consisteva in una sedia un cassettone e un grande armadio di quercia con riquadri in alto simili a finestrini di una carrozza mi avvicinai a quest'ultimo mobile mi guardai dentro e mi accorsi che si trattava di un tipo antiquato di letto studiato molto opportunamente per consentire a ciascuno dei membri della famiglia di avere a disposizione una stanza tutta per sé in effetti formava una specie di sgabuzzino e il davanzale della finestra che racchiudeva si prestava ad essere usato come un piccolo tavolo spalancai i pannelli facendoli scorrere entrai là dentro con la candela richiusi i pannelli e mi sentii al riparo della sorveglianza di Heathcliff e di chiunque altro posai la candela in un angolo del davanzale dove si trovava una pila di libri ammuffiti il davanzale stesso era inoltre coperto per intero da scritte incise nella vernice tali scritte in ogni caso erano costituite soltanto da un nome tracciato in caratteri di ogni tipo grandi e piccoli Katherine Hernschuh e qua e là si notava una variante Katherine Heathcliff e un'altra ancora Katherine Linton preso da un pigro abbandono appoggiai il capo alla finestra e continuai a compitare Katherine Hernschuh Heathcliff Linton finché le palpebre mi si chiusero ma non riposavo da cinque minuti che un bagliore di lettere bianche e vivide come spettri si accese nelle tenebre e nell'aria parvero sciamare innumerevoli Katherine riscuotendomi allora dal sonno per scacciare quel nome invadente mi accorsi come la fiamma della candela l'ammisse uno dei vecchi libri diffondendoli attorno a un odore di cuoio bruciato raddrizzai la candela e in preda a un forte malessere per via del freddo e a causa di un indugiante senso di nausea mi drizzai a sedere e aprì su le ginocchia il volume danneggiato si trattava di una bibbia mal stampata ed emanava uno staventoso sentore di muffa sulla prima pagina figurava la scritta libro di Katherine Hernschuh accompagnata da una data risalente a circa un quarto di secolo prima chiusi il volume e ne presi un altro e un altro ancora finché non li abbia esaminati tutti la biblioteca di Katherine era ben selezionata e il pessimo stato in cui si trovavano i libri testimoniava quanto spesso fossero stati sfogliati anche se non con scopi del tutto accettabili quasi nessuno dei capitoli in effetti si era sottratto ai commenti tracciati con penna e inchiostro o almeno a quelli che si sarebbero detti commenti e che riempivano ogni minimo spazio lasciato in bianco dai caratteri a stampa talune delle scritte erano frasi isolate altre assumevano la forma di un diario vero e proprio scarabocchiato con una scrittura infantile e approssimativa mi divertì molto contemplare in cima una pagina bianca considerata un vero e proprio tesoro molto probabilmente quando era stata scoperta per la prima volta una azzeccata caricatura del mio amico Joseph schizzata in modo rozzo eppure efficacissimo sentì accendersi in me un subitaneo interesse per la sconosciuta Katherine e perciò mi accinsi senza indugio a decifrare i suoi sbiaditi geroglifici una domenica spaventosa cominciava così il paragrafo sotto la caricatura vorrei che mio padre fosse ancora qui Hindley è un sostituto detestabile il suo modo di comportarsi con Heathcliff è atroce H e io finiremo per ribellarci questa sera abbiamo compiuto il primo passo aveva diluviato per tutto il giorno impossibile andare in chiesa per cui Joseph ha ritenuto necessario riunire i fedeli in soffitta e così mentre Hindley e sua moglie si crogiolavano al pian terreno davanti a un confortevole fuocherello facendo di tutto tranne che leggere la bibbia lo posso garantire Heathcliff io e il povero bracciante abbiamo ricevuto l'ordine di prendere il libro di preghiere e di salire in soffitta dove ci siamo seduti uno accanto all'altro su un pagliericcio di cartocci di Gran Turco gemendo e rabbrividendo e con la speranza che anche Joseph tremasse di freddo come noi e ci tenesse pertanto e nel proprio interesse un sermone molto breve speranza vana ahimè la funzione si è protratta per tre ore esatte eppure mio fratello ha avuto la faccia tosta di esclamare quando ci ha visti discendere ma come avete già finito tutte le sere e la domenica ci è sempre stato consentito di giocare purché non si facesse troppo chiasso adesso invece basta una risatina per essere mandati in castigo in un angolo vi siete dimenticati che avete un padrone qui? dice il tiranno il primo che mi fa perdere la pazienza lo faccio a pezzi esigo un'assoluta serietà e il silenzio oh per dinci sei stato tu? Francis cara dagli una tirata di capelli mentre passi l'ho sentito far schioccare le dita Francis gli ha tirato i capelli con tutta la sua forza poi è andata a sedersi sulle ginocchia del marito ed eccoli lì come due bimbetti a sbaciucchiarsi e a dire scemenze per un'ora intera chiacchiere insulse delle quali ci vergogneremmo ci siamo rincantucciati come meglio potevamo sotto la nicchia della credenza io avevo appena legato insieme i nostri grimbiuli e li avevo appesi a formare una sorta di tenda quando ecco entrare Joseph che era andato a sbrigare non so quale lavoro nella stalla strappa via il mio capolavoro mi prendi a schiaffi e gracida il padrone è appena stato sepolto il giorno del signore non è ancora trascorso avete ora ora ascoltato le parole del vangelo e osate dedicarvi ai giochi vergognatevi mettetevi a sedere per fidi mocciosi libri edificanti ce ne sono a Iosa basterebbe volerli leggere mettetevi a sedere e riflettete sulla salvezza della vostra anima così dicendo ci ha costretti a cambiare posto perché la fioca luce del lontano caminetto riuscisse a illuminare le parole del tomo noioso che ci aveva messo in mano non sopportavo quell'occupazione afferrai per il dorso lo stupido libro e lo scaraventai nella cuccia del cane dichiarando che detestavo i libri edificanti Heathcliff scaraventò il proprio nello stesso posto con un calcio e allora è scoppiato il finimondo padron Hindley si è messo a sbraitare il nostro cappellano padrone venga qui la signorina Katie ha strappato via il dorso del libro all'elmo della salvezza e Heathcliff ha preso a calci il primo volume dell'ampia via verso la perdizione farebbe malissimo a lasciarli continuare in questo modo il vecchio gliene avrebbe suonate di santa ragione ma purtroppo se n'è andato Hindley si è subito allontanato dal paradiso del caminetto e dopo aver afferrato uno di noi per la collottola e l'altra per un braccio ci ha scaraventati nella retro cucina e qui Joseph ha dichiarato che Belzebù ci avrebbe germito di sicuro come era certo che ci trovavamo in questo mondo così consolati siamo andati a rifugiarci ognuno per proprio conto in un angolo ad aspettare l'arrivo del diavolo ho preso questo libro e una boccetta di inchiostro dalla mensola ho lasciato la porta socchiusa per avere un po' di luce e per una ventina di minuti ho avuto tempo per scrivere ma il mio compagno impaziente ha proposto di impadronirci del mantello della lattaia e di rifugiarci sotto il suo riparo nella brughiera un'ottima idea così quando il vecchio bisbetico tornerà penserà che la sua predizione si sia avverata e del resto anche sotto la pioggia non sarebbe possibile trovarsi più all'umido o essere più infredoliti di quanto lo siamo qui suppongo che Catherine avesse messo in atto questo progetto poiché nelle frasi successive il discorso era cambiato e il tono si era fatto lacrimoso non mi ero mai sognata che Hindley potesse farmi piangere tanto scriveva la testa mi duele al punto da non poterla tenere appoggiata al guanciale ma non intendo arrendermi nonostante tutto povero Heathcliff Hindley lo chiama vagabondo e non gli consente più di stare con noi o di consumare i pasti alla nostra tavola dice che io e lui non dobbiamo giocare insieme e minaccia di scacciarlo da questa casa se i suoi ordini vengono trasgrediti si è permesso di incolpare nostro padre come ha potuto osare accusandolo di avere trattato Heathcliff con eccessiva generosità giura di riuscire a fare in modo da rimettere Heathcliff al posto che gli aspetta la testa prese a ciondolarmi e mi sentivo in preda alla sonnolenza su quella pagina poco leggibile il mio sguardo si spostò dalle parole scritte a mano al testo stampato lessi un titolo in lettere rosse circondate da miniature 70 volte 7 e il primo della settantunesima volta più sermone pronunciato dal reverendo James Branderman nella cappella di Gimmerden So mentre mi spremevo il cervello nel tentativo di immaginare cosa fosse riuscito a ricavare James Branderman da un argomento del genere quasi senza esserne consapevole mi distesi sul letto e mi addormentai ahimè quali effetti può provocare un pessimo tè seguito da un eccesso di collera altrimenti a cos'altro avrei potuto attribuire la causa di una notte tanto terribile da quando ho cominciato a rendermi conto di quello che significa soffrire non ne ricordo una sola paragonabile a questa cominciai a sognare quasi ancora prima di aver perduto la consapevolezza del luogo in cui mi trovavo mi parve che fosse mattina e mi ero incamminato verso casa in compagnia di Joseph che mi faceva da guida la nostra strada era coperta da metri e metri di neve mentre arrancavamo il mio compagno mi assillava senza posa rimproverandomi perché non avevo portato con me un bastone da pellegrino sosteneva che non sarei mai riuscito ad arrivare a casa mia senza il bastone e intanto brandiva pieno di vanagloria un nodoso randello o così mi sembrava lo avesse definito per un momento mi parve assurda la necessità di un'arma del genere per poter raggiungere la mia dimora ma poi mi balenò nella mente un altro pensiero non eravamo diretti là stavamo recandoci ad ascoltare il celebre James Branderman il quale avrebbe tenuto una predica sul testo 70 volte 7 e Joseph o il predicatore o io uno di noi insomma aveva commesso il primo peccato della settantunesima volta e sarebbe stato smascherato in pubblico e colpito da scomunica arriviamo alla cappella in realtà vi ero passato accanto due o tre volte durante le mie passeggiate e situata in una conca in mezzo a due basse colline una conca che si trova a una notevole altitudine nei pressi di una palude la cui torba intrisa d'acqua si dice sia efficacissima per mantenere imbalsamate le poche salme ad essa affidate finora il tetto della cappella non è ancora crollato ma poiché la prebenda assegnata all'ecclesiastico non supera le 20 sterline annue più un alloggio di due stanze che minacciano di ridursi in fretta ad una sola non si trova nessuno disposto ad assumersi i compiti di pastore tanto più in quanto corre voce che il suo greggio preferirebbe lasciarlo morire di fame piuttosto di contribuire con un solo centesimo di tasca propria ad arrotondargli lo stipendio nel mio sogno in ogni caso Jabes veniva accolto da un gran numero di fedeli molto attenti e pronunciava buon dio quale predica suddivisa in ben 490 parti ognuna lunga quanto un normale sermone tenuto dal pulpito e ognuna per trattare un unico peccato dove fosse andato a pescarli tutti quei peccati davvero non saprei dirlo aveva una maniera tutta sua di interpretarli e a quanto pareva aveva la convinzione che gli uomini in ogni circostanza commettessero i peccati più diversi si trattava di peccati stranissimi colpe bizzarre che fino a quel momento non mi ero mai neppure sognato potessero esistere oh quanto mi stancai come continuai ad agitarmi a sbadigliare accorgendomi che la testa mi ciondolava e ogni volta la raddrizzavo con un sussulto come mi pizzicai e cercai di pungermi per restare sveglio e quante volte mi stropicciai gli occhi balzai in piedi e mi rimisi a sedere e diedi di gomito a Joseph pregandolo di avvertirmi se per caso mi fossi addormentato ma ero condannato a restare ad ascoltare l'intera predica fino in fondo finalmente arrivò al primo peccato della settantunesima volta e in quel momento critico discese su di me un'improvvisa ispirazione fui afferrato dall'impulso di alzarmi i piedi e di accusare James Brotherham di aver commesso il peccato che nessun cristiano può perdonare signore esclamai seduto qui senza interruzione tra queste quattro mura ho sopportato e perdonato le quattrocentonovanta parti della sua predica per ben settanta volte sette ho preso il cappello con l'illusione che fosse arrivato il momento di andarcene e per ben settanta volte sette in maniera assurda lei mi ha costretto a rimettermi a sedere la quattrocentoventunesima parte colma la misura compagni di questo martirio afferratelo trascinatelo giù da quel pulpito e fatelo a pezzi tanto piccoli da renderlo irriconoscibile nel luogo dove era conosciuto da tutti tu sei l'uomo gridò James dopo un silenzio solenne e si riappioggiò al cuscino per settanta volte sette gli sbadigli ti hanno contorto la faccia e per settanta volte sette ho cercato consiglio nell'anima mia guardatelo ecco l'umana debolezza anche questa deve essere assolta ecco il primo peccato della settantunesima volta fratelli applicate su di lui il giudizio delle scritture fate che tutti i santi vengano onorati dopo quelle parole conclusive i fedeli non uno escluso brandirono i bastoni da pellegrino e si lanciarono su di me ed io che non disponevo di armi di nessun genere con le quali difendermi cominciai a dovermela vedere con Joseph il più vicino e il più accanito dei miei aggressori nel tentativo di sottrargli il randello mentre la moltitudine confluiva numerosi bastoni si incrociarono colpi diretti a me piombarono su testi altrui di lì a poco l'intera cappella risuonò di bastonate in un confuso botta e risposta la mano di ognuno dei presenti si levava contro il vicino e Branderam niente affatto disposto a rimanere inoperoso dava prova del proprio zelo facendo piovere una grandinata di colpi poderosi sulle asse del pulpito che reagirono così sonoramente da destarmi in ultimo con mio inesprimibile sollievo e ad evocare quel terribile tumulto a interpretare la parte di Jabes in tutto quello strepito cos'era stato semplicemente il ramo di una vete che arrivava a toccare la finestra mentre le raffiche imperversandosi bilanti spingevano le pigne secche a urtare contro il vetro per un attimo rimasi incerto in ascolto individuai la causa del disturbo poi mi rigirai ripresi sonno e cominciai a sognare un sogno ancora più sgradevole se possibile di quello precedente questa volta ricordai che giacevo nell'armadio di quercia e udivo con chiarezza le raffiche di vento e gli sversanti turbini di neve udivo inoltre il ramo d'abete con il suo rumore reiterato fino all'esasperazione e lo attribuì alla causa giusta ma quel suono mi irritava a tal punto che decisi di farlo smettere se possibile e almeno così credetti mi alzai e cercai di aprire la finestra ma la sbarretta che la bloccava era stata saldata entro l'alloggiamento una circostanza della quale mi ero già reso conto quando ero ancora desto ma già dimenticata devo far cessare questo strepito a ogni costo borbottai e sfondai il vetro con le nocche poi feci sporgere il braccio all'esterno per afferrare il ramo importuno ma anziché un ramo le mie dita si chiusero intorno a quelle di una piccola mano gelida come il ghiaccio il profondo orrore dell'incubo mi pervase cercai di tirare indietro il braccio ma la mano me lo avvinghiò e una voce intensamente malinconica disse tra i singhiozzi fammi entrare fammi entrare chi sei? domandai senza smettere di cercare di liberarmi sono Catherine Linton rispose la voce tremula perché mi venne in mente proprio il cognome Linton mi era capitato di leggere Earnshaw con una frequenza venti volte maggiore rispetto a Linton sono tornata a casa dopo essermi smarrita nella brugliera mentre la voce si faceva udire intravidi oscuramente il viso di una bambina che scrutava attraverso la finestra ma il terrore mi rese crudele essendomi reso conto di come fosse vano tentare di scrollarmi di dosso alla creatura ne tirai il polso sul vetro rotto e presi a strofinarvelo sopra avanti e indietro finché il sangue cominciò a sgorgare inzuppando le coperte del letto nonostante ciò la creatura non smise di gemere fammi entrare e mantenne la stretta con tenacia rendendomi quasi folle di paura come posso dissi infine lasciami andare se vuoi che ti faccia entrare le dita allentarono la presa io tirai indietro la mano di scatto attraverso il foro nel vetro e in tutta fretta ammucchiai i libri in una piramide contro la finestra poi mi turai le orecchie per non sentire la lamentosa supplica avevo l'impressione di averle tenute chiuse per più di un quarto d'ora eppure non appena mi rimisi in ascolto ecco di nuovo il grido dolente che riprendeva a gemere vattene gridai non ti consentirò mai di entrare nemmeno se continuassi per vent'anni le tue implorazioni ma sono vent'anni fece la voce in tono luttuoso sì venti sono ben vent'anni che sto vagando a quel punto cominciò a farsi udire un lieve raschiare dall'esterno e la fila dei libri si spostò quasi venisse sfinta in avanti cercai di balzare in piedi ma non riuscì a muovere nemmeno una delle membra del mio corpo perciò urlai a gran voce reso frenetico dal terrore con un senso di smarrimento mi accorsi che quel grido non era stato immaginario passi affrettati si avvicinarono alla porta della stanza qualcuno la spalancò con mano vigorosa e una luce baluginò attraverso i riquadri in cima al letto mi drizzai a sedere ancora in preda al tremito tergendomi il sudore dalla fronte l'intruso parve esitare borbottando qualcosa tra sé e sé infine quasi in un visibiglio ovviamente senza aspettarsi una risposta domandò c'è qualcuno lì dentro? ritenni preferibile ammettere la mia presenza dato che avevo riconosciuto la voce di Heathcliff e temevo qualora avessi taciuto che potesse sentirsi indotto a una ricerca più accurata con questo intento mi voltai e feci scorrere i pannelli ma non avrei dimenticato tanto in fretta gli effetti della mia iniziativa Heathcliff si trovava accanto alla porta in camicia e calzoni con una candela sgocciolante tra le dita e il viso bianco come la parete alle sue spalle il primo cigolio del legno di quercia lo fece trasalire come una scossa elettrica la candela gli cade di mano e andò a finire a un paio di metri di distanza era in preda a una tale agitazione da non riuscire quasi a raccattarla sono io soltanto il suo ospite signore gridai poiché volevo evitargli l'umiliazione di dare un'ulteriore prova della sua codardia purtroppo ho urlato nel sonno a causa di un incubo spaventoso mi spiace di averla disturbata oh dio la maledica signor Lockwood possa andare al cominciò a dire il mio anfitrione posando la candela su una sedia dal momento che gli riusciva impossibile tenerla ferma e chi l'ha fatta entrare in questa stanza continuò conficcandosi le unghie nel palmo delle mani e serrando i denti fino ad igrignarli per far cessare il tremito della mascella chi è stato di chiunque si tratti ho una mezza intenzione di metterlo alla porta su due piedi è stata la sua domestica Zilla risposi saltando giù dal letto e radunando frettolosamente i miei indumenti non mi importerebbe niente se la scacciasse signor Heathcliff se lo meriterebbe appieno presumo volesse un'altra prova del fatto che questa stanza è infestata dai fantasmi e a spese mie beh è proprio così è piena di fantasmi e di folletti fa benissimo lei a tenerla chiusa a chiave glielo assicuro nessuno la ringrazierà mai dopo aver trascorso la notte in questa tana che cosa intende dire? domandò Heathcliff e che cosa sta facendo adesso? torni a coricarsi per il resto della notte visto che si trova qui ormai ma per l'amor del cielo non ricominci con quell'urlo spaventoso non c'è niente che possa giustificarlo a meno che qualcuno non cercasse di tagliarle la gola se quella piccola creatura infernale fosse riuscita a entrare dalla finestra con ogni probabilità mi avrebbe strozzato ribattei non ho alcuna intenzione di sopportare nuovamente di venire perseguitato dai suoi ospitali antenati il reverendo James Branderam non era forse imparentato con lei da parte di madre? e quella piccola sfrontata Katherine Linton o Earnshaw o comunque si chiamasse doveva essere una bambina sostituita dalle streghe nella culla quella piccola anima malvagia mi ha detto di avere vagato sulla terra per vent'anni giusto castigo per i suoi peccati mortali non ne ho alcun dubbio avevo appena pronunciato queste parole quando rammentai che il nome di Heathcliff fosse accumunato a quello di Katherine nel libro un particolare che fino a quel momento e cioè finché non ero stato ben desto avevo del tutto dimenticato la mia sconsideratezza mi fece arrossire ma senza insistere nel dare a vedere come mi rendessi conto di essere stato offensivo mi affrettai ad aggiungere la verità signore è che ho trascorso la prima parte della notte e a questo punto mi interruppi di nuovo per poco non mi ero lasciato sfuggire le parole sfogliare quei vecchi volumi rivelando in tal modo di essere a conoscenza degli scritti tracciati a mano su di essi e non soltanto dei testi stampati pertanto cercai di rimediare e continuai a decifrare i nomi incisi sul davanzale di quella finestra un passatempo monotono al quale mi ero dedicato per addormentarmi la stessa cosa di quando ci si mette a contare le pecore o... come le può saltare in mente di parlare in questi termini a me tuonò Heathcliff con un impeto selvaggio come come osa trovandosi sotto il mio tetto Dio deve essere pazzo per esprimersi così e si battè la mano sulla fronte con furia non sapevo se risentirmi di queste sue parole o se insistere con i chiarimenti ma sembrava così profondamente sconvolto al punto da infietosirmi che continuai a parlare degli incubi di quella notte asserì di non aver mai sentito nominare prima di allora Katherine Linton ma l'aver più e più volte decifrato quel nome doveva avermi colpito in misura tale che la persona con quel nome si era materializzata nei miei sogni quando avevo perduto nel sonno il controllo della mia immaginazione Heathcliff indietreggiò a poco a poco nel riparo del letto mentre parlavo e in ultimo si mise a sedere quasi nascosto dietro di esso dalla sua respirazione affannosa e irregolare arguì tuttavia che stesse lottando per soffocare il prorompere di violente emozioni non volevo fargli capire come mi fossi reso conto del suo turbamento interiore e continuai perciò a vestirmi alquanto rumorosamente consultando l'orologio e mi permissi un soliloquio nel quale osservavo quanto fosse interminabile quella notte non sono ancora le tre del mattino avrei giurato che fossero le sei il tempo non passa mai qui senza dubbio ci siamo coricati non più tardi delle otto ieri sera ci corichiamo sempre alle nove durante l'inverno e ci alziamo immancabilmente alle quattro disse il mio anfitrione soffocando un gemito e a giudicare dal movimento dell'ombra del suo braccio si asciugò una lacrima dagli occhi ma forse fu soltanto una mia fantasia signor lockwood soggiunse lui può andare a dormire nella mia camera riuscirebbe soltanto a ostacolarci se scendesse così di buon'ora al pian terreno il suo urlo infantile comunque ha mandato al diavolo il sonno almeno per quanto mi riguarda proprio come è accaduto a me osservai andrò a passeggiare nel cortile fino alle prime luci e poi prenderò congedo e lei non dovrà più temere il ripetersi della mia invadenza posso dirmi del tutto liberato dal desiderio di trarre qualche diletto dalla compagnia degli altri sia in campagna sia in città un uomo assennato dovrebbe trovare sufficiente la compagnia di se stesso una compagnia deliziosa bofonchiò Heathcliff prenda la candela e vada dove le pare io la raggiungerò subito si tenga alla larga dal cortile però i cani non sono alla catena e anche in casa c'è giuno a fare la guardia al piano di sotto e no non le resta che aggirarsi per le scale e i corridoi vada vada in ogni caso verrò anch'io tra due minuti seguì il suo consiglio ma mi limitai a uscire dalla stanza poi non sapendo dove mi avrebbero condotto gli stretti corridoi non mi mossi e senza volerlo assistetti a un comportamento che sapeva di superstizione da parte del mio padrone di casa dal quale veniva smentita in uno strano modo la sua apparente ragionevolezza lo vidi salire sul letto e spalancare la finestra scoppiando mentre l'apriva in un irrefrenabile accesso di pianto entra entra singhiozzò che ti entra te ne prego oh vieni almeno una volta ancora oh mia diletta ascoltami questa volta finalmente Katherine lo spettro si dimostrò capriccioso come lo sono di solito gli spettri non fornì alcuna testimonianza di esistere ma il vento e la neve turbinarono con furia selvaggia nel varco della finestra spalancata raggiungendo perfino il punto in cui io mi trovavo e spegnendo la candela traspariva un tale strazio nello sfogo di dolore al quale si accompagnavano le parole di Heathcliff che la compassione mi indusse a ignorare la sua follia mi allontanai in parte irato con me stesso per essere rimasto in ascolto e innervosito per avergli descritto il mio ridicolo incubo provocando in lui una tale sofferenza anche se il perché di tutto ciò rimaneva al di là della mia comprensione discesi con cautela al pian terreno e finì per trovarmi nel retro cucina dove il bagliore delle bracci residue mi consentì di radunarle e dopo averle riattizzate potei accendere la candela nulla si mosse tranne un gatto grigio tigrato che strisciò fuori dal camino e mi salutò con un querulo miagolio due panche fatte a forma di segmento di cerchio quasi racchiudevano il focolare mi sdraiai su una di esse e il gatto sassò sull'altra ci stavamo già pisolando entrambi quando qualcuno venne a invadere il nostro rifugio era joseph che ciò battò giù per la scaletta di legno che scompariva entro una botola nel soffitto la via d'accesso presumo al solaio dove dormiva joseph lanciò un'occhiata torva al fuocarello che ero riuscito a far guizzare tra le braci scacciò il gatto dalla panca poi occupò lui stesso il posto rimasto libero e si impegnò a pigiare tabacco nel fornello di una pipa lunga sette o otto centimetri era ovvio che giudicava una troppo vergognosa sfacciataggine perché si potesse commentare la mia presenza in quel sancta sanctorum riservato a lui in silenzio si infilò la cannuccia della pipa tra le labbra incrociò le braccia e prese ad aspirare lo lasciai godersi quel piacere senza disturbarlo e lui dopo aver risucchiato anche l'ultima spirale di fumo emise un profondo sospiro si alzò e se ne andò con la stessa solennità con la quale era comparso di lì a non molto entrò qualcuno dal passo più elastico e a quel punto mi accinsi ad aprire la bocca per augurare il buongiorno ma la richiusi senza aver detto parola Areton Hernshaw infatti stava recitando le orazioni mattutine sotto voce orazioni che consistevano in una serie di bestemmie scagliate contro qualsiasi oggetto toccasse mentre frugava in un angolo per cercare una vanga o un badile con cui aprirsi un varco in mezzo ai cumuli di neve si voltò a dare un'occhiata oltre lo schienale della panca dilatando le narici e non gli passò per la mente di scambiare convenevoli con me più di quanto avrebbe pensato di scambiarne con il gatto dedussi dai suoi preparativi che ormai fosse possibile uscire e abbandonato il duro giaciglio feci lato di seguirlo lui se ne accorse e indicò una porta interna con l'estremità della vanga facendomi capire con un suono inarticolato come fosse quello il luogo dove mi dovevo recare qualora avessi deciso di cambiare posto la porta dava sul soggiorno nel quale le donne erano già discese zilla stava facendo sprizzare faville su per la cappa del camino azionando un soffietto colossale e la signora Heathcliff inginocchiata sul focolare leggeva un libro alla luce delle fiamme teneva una mano in modo da riparare gli occhi dal calore del focolare e sembrava assorta nella lettura si limitava a interromperla soltanto per rimproverare la domestica colpevole di averla coperta di scintille o per respingere di tanto in tanto uno dei cani quando le accostava un po' troppo il muso alla faccia mi meravigliai nello scorgere lì anche Heathcliff si teneva in piedi davanti al fuoco e mi voltava le spalle mentre terminava proprio in quel momento di fare una violenta scenata alla povera zilla che di tanto in tanto interrompeva le proprie fatiche per asciugarsi gli occhi con un lembo del grembiule e per lasciarsi sfuggire un gemito pieno di indignazione e tu svergognata esplose quando entrai rivolto alla nuora servendosi di un epiteto certo non innocuo come anatroccola o agnellina ma accennato nei libri di solito con la sola iniziale eccoti di nuovo lì a ozziare con il tuo inutile passatempo tutti gli altri si guadagnano il pane ma tu vivi grazie alla mia carità metti via quella spazzatura di libro e trovati qualcosa di meglio da fare me la dovrai pagare per il tormento che sono costretto a sopportare con la verti di continuo davanti agli occhi mi stai a sentire maledetta donnaccia metterò via questa spazzatura perché se mi rifiutassi potrebbe costringermi rispose la giovane signora chiudendo il libro e scagliandolo su una sedia ma non farò un bel niente tranne quello che mi fa comodo anche se dovesse consumarsi la lingua furia di bestemmiare Heathcliff alzò la mano ma la sua interlocutrice con uno scarto si portò a distanza di sicurezza ben sapendo quanto quella mano potesse essere pesante poiché non ci tenevo affatto al divertimento di assistere a una lotta tra cane e gatta mi fece avanti a passo veloce come se fossi ansioso di riscaldarmi al tipore del camino e del tutto all'oscuro della disputa in corso entrambi si mostrarono dignitosi quanto bastava per evitare di continuare lo scambio di ostilità Heathcliff per non lasciarsi tentare si ficcò in tasca le mani chiusi a pugno quanto alla signora Heathcliff la vidi serrare le labbra incresfandole e andare ad accomodarsi sulla sedia più lontana comportandosi come una statua durante tutto il tempo in cui mi tratteni in quella casa ma non mi rimasi a lungo non accettai di dividere con loro la colazione e alle prime luci dell'alba approfittai della possibilità di uscire all'aria aperta ora limpida e calma e gelida come ghiaccio impalpabile il mio padrone di casa mi gridò di fermarmi quando arrivai in fondo al giardino e si offrì di accompagnarmi attraverso la brughiera fu un bene che me lo avesse proposto dato che l'intero crinale della collina era un unico ondulato e candido oceano i culmini e gli avvallamenti non stavano a indicare corrispondenti alture o concavità del terreno non poche conche perlomeno erano state del tutto colmate dalla neve e intere serie di montagnole gli scarti delle cave sembravano cancellate dalla carta topografica che la passeggiata del giorno prima aveva impresso nella mia mente non mi era sfuggito su un lato della strada il susseguirsi a intervalli di sei o sette metri di pietre collocate in posizione perpendicolare per tutta l'estensione della brughiera deserta erano state così distribuite e imbiancate a calce con lo scopo di servire come riferimenti al buio o anche quando un'abbondante nevicata come quella confondeva le profondi paludi in mezzo alle quali si stendeva la via con il fondo stradale solido ma adesso a parte qualche chiazza grigia affiorante qua e là in corrispondenza della sommità di qualcuna di quelle pietre ogni traccia della loro esistenza era stata cancellata e il mio compagno giudicò necessario invitarmi spesso a deviare a destra o a sinistra mentre io ero convinto di seguire il giusto percorso delle sinuosità della strada la conversazione tra noi fu molto scarsa ed egli si fermò all'ingresso del parco di trascross assicurandomi che da quel punto in poi non avrei potuto sbagliare il nostro commiato si limitò a un frettoloso inchino poi io proseguì facendo conto sulle mie sole risorse dato che la casetta del custode è ancora disabitata il tratto che va dall'ingresso del parco alla grange è di poco più di due chilometri credo di essere riuscito a renderlo più lungo di altri due a causa del mio continuo smarrirmi tra gli alberi e al fatto di affondare spesso fino al collo nella neve una situazione critica della quale può rendersi conto soltanto chi l'abbia sperimentata in ogni modo nonostante tutte quelle deviazioni la pendola batteva le dodici quando entrai in casa e ciò significa che per percorrere ogni chilometro della consueta strada da cime tempestose avevo impiegato tre quarti d'ora la componente umana dell'arredo della casa e i suoi aiutanti vennero di corsa a darmi il benvenuto esclamando agitati e tumultuosi che avevano ormai rinunciato ad ogni speranza per quanto mi riguardava ognuno di loro senza eccezioni aveva immaginato che non fossi sopravvissuto a quella nottata e tutti si erano domandati come avrebbero potuto accingersi alla ricerca dei miei miseri resti li invitai a tacere adesso che mi avevano visto tornare sano e salvo anche se intirizzito fino alle ossa e mi trascinai al piano di sopra dove dopo aver indossato abiti asciutti e aver camminato avanti e indietro per 30 o 40 minuti al fine di riattivare la normale temperatura corporea mi rifugiai nello studio debole come un gattino quasi troppo spossato per riuscire a godermi l'allegro fuoco e il caffè preparati dalla governante perché mi ristorassi